che scompare il tutor dalle scuole dell'obbligo, lo hanno deciso CGL, CISL e UIL in un incontro all'Aran, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, eliminata anche la possibilità d'anticipo alle scuole materne e il ricorso a esperti esterni su materie di insegnamento. E su questo abbiamo intervistato Massimo Di Menna, segretario generale della UIL Scuola. La cosa principale è che c'è meno rigidità, cioè l'eliminazione di questa figura che tra l'altro non ha avuto particolare successo, nel senso che sono poche le scuole dove si è realizzata, è quella di far svolgere queste funzioni, che sono quelle di orientamento dei ragazzi, di rapporti con le famiglie, di coordinamento delle attività delle varie discipline e di compilazione della documentazione per la valutazione e farle svolgere agli insegnanti nel loro insieme. Bisogna evitare di trasformare gli insegnanti in produttori di carte, che dovrebbero dedicare troppo tempo a trascrizione di cose completamente inutili e con qualche difficoltà, considerato che c'è un parere del garante della pragesi che invita in particolare cautela e che invita al Ministero a fare un regolamento che non è stato ancora fatto.